Siamo alla quinta edizione del circuito di Avezzano. Il 23, 24 e 25 giugno interesserà la città di Avezzano ma anche il Parco Nazionale d'Abruzzo. Il programma prevede l'arrivo degli equipaggi il 23 al Palazzo d'Orlonia a partire dalle ore 15. Il 24 partiranno alle 8 e mezza di mattina per fare un giro nel Parco Nazionale d'Abruzzo e arrivare fino a Pescasseroli per poi rientrare alle 17 ad Avezzano. Le auto verranno esposte e sono 100 nella piazza principale. La sera alle 22 il circuito in notturna con blocchi da 25 automobili che sfileranno per le strade della città. La domenica si conclude la manifestazione con le premiazioni.